Cari amici, buongiorno. Vi presentiamo il nostro personaggio. Lui si chiama Giorgio. Lui è un tipico italiano. Lui è biondo. Marisa è una studentessa intelligente. Il signor Sontag è un uomo giovane e interessante. La signora Carme Pereira è una donna forte e bella. Lei si chiama Clara. Clara è una tipica donna tedesca. Lei è piccola e scura. Boris è un russo, ma non è un uomo rosso. Leonardo è di Firenze. Lui è un grande genio. Domande. Giorgio è biondo. Giorgio è biondo. Marisa è stupida. Il signor Sontag è un uomo anziano. La signora Pereira è forte. Clara è una donna alta. E' una donna alta. E' una donna alta. Boris è italiano. Leonardo è di Roma. E' un uomo giovane e interessante. di dove è Leonardo, com'è Marisa, chi è una donna piccola e scura? chi è il russo? come si chiama un uomo italiano? sehr schön, am besten schreibensi auch das ganze stoppen sie die videoaufnahme und schreibensi alles ciao